Gremitissimo l'auditorium Guinigi del complesso di San Francesco per la conferenza di Wolfgang Reitzel, amministratore delegato dell'azienda tedesca Linte, leader mondiale dell'estrazione del gas. Dopo l'introduzione del direttore dell'Istituto di Alti Studi MT Alberto Bemporad, Reitzel ha parlato sul tema della trasformazione delle aziende nel contesto istituzionale di riferimento, con cenno particolare alle variabili politiche ed economiche che possono rappresentare le chiavi di volta di una prospettiva multinazionale. L'incontro è stato moderato da Fabio Pammolli, ex direttore di IMT. La conferenza faceva parte del ciclo Open IMT, cittadini e ricerca si incontrano, ed è stata promossa con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, allo scopo di stimolare una più ampia discussione con il pubblico italiano e lucchese, in un momento così delicato per il comparto industriale della nostra provincia.